Bene, mentre piano piano ci accomodiamo così da onorare il classico quarto d'ora accademico ma non più di quello perché abbiamo comunque un incontro piuttosto esteso e vorremmo che tutti i nostri relatori e relatrici abbiano lo spazio necessario per poter condividere con voi quanto hanno da dirci. Allora prima di tutto il benvenuto a tutti voi e a tutte voi da parte della facoltà di giurisprudenza del preside professor Paolo Carta e del professor Fulvio Cortese che è il direttore del master in diritto e politiche delle migrazioni che è uno dei promotori, non possiamo dire storici perché il master è nuovo, ha solo due anni di vita però è già molto attivo e impegnato su questo fronte. Quindi anche da parte del collega Cortese un grandissimo saluto a tutte voi e a tutti voi. Io vorrei in questo momento concludere la parte dei saluti e dei ringraziamenti anzitutto alle nostre relatrici e ai nostri relatori per la loro presenza. Qui dei ringraziamenti a tutti gli enti, le associazioni, le istituzioni che hanno contribuito all'organizzazione dell'incontro di questo pomeriggio e quindi un grande ringraziamento alla loro fiducia ma vorrei dare la parola per un saluto speciale ad Antonio Trombetta che è il nuovo presidente del Forum Trentino per la pace. Grazie, grazie mille, buonasera e ringrazio molto per l'invito, per essere qua. È un appuntamento molto importante questo, come in realtà è importante che l'Università di Trento abbia un master come quello che è stato appena citato che permette di creare anche della professionalità su questi temi ed è molto importante che ci sia e che poi venga anche riconosciuta. L'appuntamento di oggi è fondamentale perché riusciamo anche a dare concretezza, numeri, dati, informazioni che ci permettono di guardare con un occhio molto più attento, ascoltare con un orecchio molto più preciso le narrative che riceviamo quotidianamente sui flussi migratori, sui fenomeni migratori. Vi faccio però un invito, quando ascoltate questi numeri, quando leggete questi dati, di ricordarvi sempre che dietro tutto questo ci sono delle storie, ci sono delle vite, ci sono delle persone che non fanno altro che sognare di poter avere una vita migliore. Grazie. Antonio Malato Lassist, apriamo questa nostra serata dai dati. Abbiamo un video che è messo a disposizione dal Centro Studi IDOS Confronti, il video è stato presentato stamani alle 10.30 presenta la presentazione a Roma del dossier, forse è così intanto il dottor Pastorino fa la parte tecnologica e forse voi saprete che la presentazione del dossier tradizionalmente avviene nello stesso giorno, solitamente la mattina a Roma, che è la sede del Centro Studi IDOS Confronti che lo predispone e nella stessa giornata la presentazione avviene presso tutte le regioni e nel nostro caso le province autonome che partecipano alla costruzione di questo volume molto denso e articolato. Allora partiamo con i dati. Nel 2023 il numero dei migranti internazionali ha superato nel mondo i 300 milioni, pari al 3,6% della popolazione globale. Almeno 2 milioni di persone si sono spostate dal sud al nord del mondo, dove si concentra quasi la metà della ricchezza planetaria, benché vi abiti meno di un sesto della popolazione, con un PIL medio pro capite quattro volte più alto che nel sud. 733 milioni di persone soffrono la fame o l'insicurezza alimentare, mentre i conflitti in corso hanno raggiunto il numero più alto dal 1946, contribuendo alla crescita massiva dei migranti forzati. Con un aumento di quasi 9 milioni solo nell'ultimo anno, a fine 2023, il loro numero è salito a 117 milioni, 6 volte più del 2000, per i due quinti costituiti da minorenni. 38 milioni e mezzo sono rifugiati e richiedenti asilo, e oltre 68 milioni sono sfollati interni, mentre i circa 8 milioni di sfollati per cause climatiche vengono conteggiati a parte. Di fronte a queste potenti spinte, molti stati comunitari, tra cui l'Italia, rispondono intensificando le misure di esternalizzazione delle frontiere e di respingimento, costringendo i migranti a percorrere rotte sempre più pericolose, oltre che a subire violenze, torture e detenzioni forzate in campi dalle condizioni disumane. Nel 2023 Libia e Tunisia ne hanno bloccati oltre 93 mila, mentre i morti ai dispersi accertati sono stati nel solo Mediterraneo centrale più di 2.500. Nello stesso anno, gli attraversamenti irregolari delle frontiere comunitarie sono saliti a oltre 385 mila, più di due su tre lungo le rotte del Mediterraneo centrale e dei Balcani occidentali. A ruota sono cresciute anche le domande di asilo presentate nell'Unione Europea. 1.130.000 nel 2023, incluse quelle reiterate, un quarto delle quali riguardanti minori. Germania, Francia, Spagna e Italia ne hanno ricevute insieme oltre il 70%. Sommando gli esiti positivi in prima e ultima istanza, nel 2023 l'Unione Europea ha concesso protezione a 410.000 richiedenti asilo. A fronte di quasi 158.000 persone sbarcate, il 50% in più rispetto al 2022, e dei 12.000 ingressi segnalati dalla rotta balcanica, le nuove domande di asilo presentate in Italia sono state quasi 131.000, in aumento rispetto alle 77.200 del 2022, nonostante le restrizioni e i cronici ritardi nella formalizzazione delle istanze. Delle 46.000 esaminate in primo grado nel 2023 ha ricevuto risposta positiva il 47,5%, quota che sale al 76,4% tra le 15.000 decisioni di secondo grado. La stragrande maggioranza dei migranti in accoglienza è ancora all'interno dei centri cosiddetti straordinari, affidati in gestione a enti privati, in cui si è tornati a relegare i richiedenti asilo e a ridurre i servizi. Alla fine del 2023, su oltre 139.000 migranti accolti, solo il 25% era inserito in centri del SAI, il sistema ordinario facente capo agli enti locali. Preoccupa in particolare la possibilità di inserire nei CAS per adulti anche i minori stranieri non accompagnati con più di 16 anni, alimentando il rischio di esporli a condizioni di promiscuità, sovraffollamento e a minori tutele. Nell'Unione Europea risiedono oltre 41,4 milioni di stranieri, di cui circa 14 milioni sono comunitari. Aggiungendo anche i nati all'estero e i naturalizzati, si arriva a 60 milioni di residenti con background migratorio. L'Italia si conferma il quarto paese per numero di residenti stranieri, dopo Germania, Francia e Spagna. 5 milioni e 300 mila, il 9% di tutti i residenti. A prevalere sono ancora gli europei, per la maggior parte comunitari, mentre circa un quinto è asiatico, un altro quinto africano e poco più del 7% proviene dal continente americano. I romeni, con un milione e centomila residenti, restano i più numerosi davanti ad albanesi, marocchini, cinesi e ucraini. I tortuosi meccanismi di ingresso e permanenza regolare, uniti all'aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana e al diminuito afflusso dei profughi dell'Ucraina, hanno fatto scendere i non comunitari regolarmente soggiornanti a 3 milioni e 600 mila alla fine del 2023. 3 su 5 hanno un permesso di lungo periodo, mentre, tra gli altri possessori di un permesso a termine, i soggiornanti per motivi familiari rappresentano oltre un terzo, continuando a prevalere sia rispetto ai titolari di protezione, i due quinti dei quali ne hanno una temporanea in quanto profughi dell'Ucraina, sia rispetto ai soggiornanti per lavoro. Nonostante l'aumento generale dell'occupazione, nel 2023 i lavoratori stranieri regolari restano stabili a 2 milioni e 400 mila, il 10% di tutti gli occupati, mentre diminuisce a 304 mila il numero di stranieri disoccupati, sebbene pesino per circa il 16% del totale. Resta particolarmente sfavorito l'accesso al lavoro delle donne straniere, che incidono per il 41,9% tra i connazionali occupati, ma per il 52,6% tra quelli disoccupati. Sulla mancata crescita dell'occupazione regolare straniera, pesano le irrealistiche norme per l'inserimento di manodopera aggiuntiva dall'estero, per cui nel 2023 sono meno di un quarto degli stranieri autorizzati all'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote previste dai decreti flussi, quelli che sono stati convocati per la firma del contratto di soggiorno e il rilascio di permesso. Del resto, i lavoratori stranieri continuano a restare schiacciati in specifici comparti e impieghi per lo più manuali, spesso mal remunerati e più esposti al rischio di infortuni. 6 su 10 svolgono mansioni operaie o non qualificate, il doppio rispetto agli italiani, mentre meno di 9 su 100 esercitano una professione qualificata contro il 38,6% degli italiani. La loro incidenza sugli occupati supera la media nel ramo dei trasporti e magazzinaggio, in quello alberghiero ristorativo, nelle costruzioni, in agricoltura e soprattutto nei servizi alle famiglie, dove raggiunge il 62,5%. Da solo, il lavoro domestico assorbe circa un terzo della manodopera straniera femminile, mentre l'industria e le costruzioni il 44% di quella maschile. Inoltre, più di un terzo dei lavoratori stranieri è sovraistruito a fronte di un quarto degli italiani e il 16% svolge un part-time involontario contro una quota quasi dimezzata tra gli italiani. Segregazione e subalternità lavorativa, unite a scarsa mobilità occupazionale, generano anche profonde disuguaglianze di reddito. Nel 2023, quello medioannuo degli stranieri è inferiore di ben un terzo rispetto a quello degli italiani. Non stupisce dunque che il 40% degli stranieri, il doppio rispetto agli italiani, sia a rischio di povertà ed esclusione sociale, e che il 35% delle famiglie di soli stranieri sia in condizione di povertà assoluta, un dato quasi sei volte più alto rispetto alle famiglie di soli italiani. Tuttavia, a maggio 2024, solo il 3% degli stranieri fruiva dell'assegno di inclusione. La maggiore e più diffusa indigenza si riflette anche sull'accesso alla casa. Per quasi due terzi, gli immigrati abitano in affitto, spesso in nero e a canoni rialzati. Un quinto vive in una casa di proprietà. I restanti si suddividono quasi equamente tra chi abita nel luogo di lavoro, come molte badanti, e chi presso amici e connazionali, anche in sovraffollamento. A costoro si aggiungono i senza fissa dimora, che il censimento 2021 contava in 36.000, e gli almeno 10.000 lavoratori agricoli che abitano i 150 ghetti censiti in Italia, oltre a quanti si trovano nelle strutture di accoglienza o sono detenuti. In condizioni, spesso al limite del vivibile, nei centri, per i rimpatri. A ostacolare la piena partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese, concorrono, soprattutto per le nuove generazioni, anche i penalizzanti meccanismi di accesso alla cittadinanza italiana. I periodici picchi di acquisizioni annue, come le 214.000 del 2022 e del 2023, sono infatti per lo più causati dalla maturazione dei dieci anni di residenza richiesti per la naturalizzazione da parte di ampie fasce di immigrati, spesso a partire da precedenti regolarizzazioni massive. Tra i quasi 915.000 alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, l'11% della popolazione scolastica, quelli nati in Italia sono circa i due terzi. Nonostante la costante crescita, resta preoccupante il loro progressivo diradamento all'elevarsi del livello formativo. Passano dal costituire il 13,3% degli iscritti alla scuola primaria all'8,4% delle superiori, dove, in due casi su tre, scelgono istituti tecnici o professionali a fronte del 46% degli italiani. All'università, poi, decide di iscriversi solo il 38,5% dei diplomati stranieri contro una media del 52%. In un contesto in cui, nonostante il grave allargamento dei conflitti e l'incalzante clima di avversione xenofoba, la popolazione di origine straniera integra e arricchisce con i suoi portati specifici il tessuto sociale, culturale ed economico del paese, appare sempre più urgente promuovere politiche di riconoscimento e di valorizzazione per lo sviluppo di una società aperta e coesa. Il dossier statistico in migrazione si offre come uno strumento di conoscenza per tutti coloro che vorranno impegnarsi a raggiungere questo obiettivo. E noi ci colleghiamo a questo impegno, a questa speranza, a questo desiderio. Il video lo potete recuperare agevolmente dal sito di IDOS Confronti, lo mettete la ricerca su un qualsiasi motore e arrivate alla pagina YouTube del sito. Quindi questo consente di rivedere e di fermare alcuni dati che ovviamente qui sono raccontati di corsa, ma credo che siano comunque raccontati in modo da poterci colpire. I dati ci servono per sapere di cosa stiamo parlando e soprattutto per riportare qualsiasi ragionamento, argomentazione, discussione in materia di migrazioni, sul piano della realtà e non sul piano della fantasia, se non sul piano dell'incubo sviluppato scientemente e confuso volutamente con la realtà che è molto differente purtroppo. Quindi io sono molto contenta che voi siate qua, ma tutte le volte che osservo i volti penso che sarebbe necessario portare questa discussione, portare questi strumenti assolutamente neutri in sedi dove c'è una grande difficoltà ad affrontare il tema delle migrazioni secondo i canoni della razionalità, della ragionevolezza, della competenza, della conoscenza dei fenomeni. L'altro suggerimento che vi darei prima di passare la parola ai nostri ospiti è proprio di dare un'occhiata alla presentazione che stamattina Luca Di Sciullo, che è il presidente del Centro Studi IDOS, ha condiviso con chi era alla presentazione di Roma e con chi era collegato alla presentazione. Anche questo testo lo trovate pubblicato sul sito. Devo dire che la durezza con la quale Luca Di Sciullo ha presentato agli ascoltatori il disegno dell'attualità da un lato spaventa perché non siamo abituati ad ascoltare voci fortemente, rudemente direi, critiche ma anche fortemente competenti, quindi voci che si alzano con sicurezza perché hanno gli strumenti per poter andare controcorrente rispetto alla narrazione alla quale siamo, tristemente abituati. Condivido con voi solo due passaggi di questa relazione che davvero vi consiglio, vi suggerisco di leggere perché abbiamo anche bisogno di rinforzarci reciprocamente. Ogni tanto, non so se succede a voi, ma capita di dire ma sono io dalla parte sbagliata del treno oppure sono proprio questi che stanno guidando in direzione ostinata, contraria e ci portano poi tutti a schiantarci perché è quello che sta succedendo all'interno delle nostre comunità a seguito delle politiche, dei comportamenti, delle azioni, delle parole che vengono usate quando si parla di immigrazione. Ecco, è come avvelenare i pozzi. Alla fine o ci salviamo tutti insieme o finiremo tutti insieme, tristemente. Questi sono i due passaggi. Il primo, il fatto che gli immigrati siano diventati da almeno 30 anni il capro espiatorio di tutti i mali endemici del Paese e che i governanti di turno abbiano tutti concorso, chi con azioni e chi con omissioni, a spogliarli di ogni più elementare diritto e tutela fino a ridurli a una condizione di inferiorità giuridica e sociale che ne ha fatto appunto delle non persone e quindi dei perfetti oggetti sacrificali. Ecco, tutto ciò è talmente evidente che basta consultare le cronache. Se un anno fa raggelavamo per lo strangolamento di un immigrato ambulante avvenuto in pieno giorno in un affollato centro cittadino senza che nessuno degli astanti che pure filmavano la scena col cellulare fosse intervenuto, quest'anno siamo rimasti impietriti da una sessantenne che ha rincorso in auto il suo scippatore immigrato, lo ha investito, gli è passata sopra, avanti e indietro per quattro volte con il SUV, ha ripreso la borsetta e se n'è andata. La conclusione del suo lungo, dolente e duro intervento ci porta a Italo Calvino e alle città invisibili e a un dialogo tra il Gran Canne e Marco Polo. Il Gran Canne esprime il suo sgomento di fronte ai rischi della città infernale nella quale tutti gli uomini, le donne rischiano di essere assorbiti e travolti e Marco Polo replica l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno, diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno. In mezzo all'inferno, inferno non è, e farlo durare e dargli spazio. Quello che proviamo a fare insieme questa sera è dare spazio a ciò che inferno non è, avendo però gli occhi ben aperti sull'inferno. La parola la darei prima di tutto a Serena Piovesan, che è un punto di riferimento ormai ineludibile del dossier IDOS Confronti, perché è la referente per la provincia autonoma dell'aggiornamento costante che di anno in anno viene garantito nella seconda parte del dossier, quella dedicata alla fotografia dei territori regionali. Serena Piovesan è sociologa e appartiene quindi alla parrocchia qui di fronte e tra giuristi e sociologi per lungo tempo non è corso esattamente buon sangue, ma il tema dell'immigrazione chissà perché è un tema che riesce a metterci insieme e a permetterci di condividere le nostre competenze. Serena quindi ci parlerà della dimensione territoriale il quadro della provincia autonoma di Trento. Prego. Grazie e ben ritrovati e ben ritrovate. Cercherò di essere sintetica e nel fallo devo anche selezionare i dati che espongo poi ecco nel dossier trovate una maggior ricchezza in questo senso che purtroppo non sempre corrisponde anche alla ricchezza di dati che abbiamo per il livello nazionale o regionale ma certamente molte delle tendenze che sono anche state nominate durante il video penso ragionevolmente siano anche tendenze che riguardano la provincia di Trento anche se non abbiamo dati in questo senso. Partirei dal da una fotografia provvisoria diciamo del 2023 popolazione straniera residente in provincia di Trento l'ISTAT attesta in via appunto provvisoria credo che entro la fine dell'anno avremo il dato consolidato 47.000 circa stranieri residenti in Trentino è un valore in crescita mille circa 400 persone in più rispetto ai residenti stranieri che si erano registrati nel 2022 che rappresentano l'8,6% della popolazione residente in Trentino sono donne nel 51,4% dei casi sappiamo poi che all'interno dei principali gruppi nazionali ci sono profonde differenze in termini di distribuzione di genere differenze che poi osserviamo anche nell'analisi della popolazione straniera per età le donne nella fascia di età degli stranieri sopra i 65 anni sono ben più della metà del totale minori minori nel 20,2% dei casi un valore molto importante a conferma più in generale della diciamo distribuzione della distribuzione per età particolarmente diversa tra italiani e stranieri con gli stranieri che sono insomma mediamente più giovani degli italiani di circa dieci anni e che vedono comunque una crescita abbastanza importante anche nelle fasce di età più mature dove però incidono veramente molto poco sul totale rispetto a quanto incidono gli anziani sulla popolazione italiana questi 47.000 stranieri residenti quasi nel 30% dei casi risiedono nel comune capoluogo e territorio della valle dell'Adige Valla Garina Alto Garda Eledro sono le comunità di valle che raccolgono il maggior numero degli stranieri residenti per il 2022 abbiamo a disposizione la fotografia definitiva della popolazione straniera residente per nazionalità quindi ci sono valori calcolati sui 45.620 residenti del 2022 come vedete abbiamo una conferma delle prime nazionalità Romagna Albania e Marocco ma la novità molto importante e che arriva dopo anni in cui comunque noi avevamo segnalato questa importante crescita della comunità pakistana il fatto che proprio la comunità pakistana è forte di un trend anche tra 2021 e 2022 di crescita importante ha raggiunto il Marocco quindi ha superato le 3400 unità e incide per il 7,5% sul totale degli stranieri residenti mentre Romania Albania e Marocco continuano ad avere invece un trend in contrazione quando parliamo appunto di residenti soprattutto per le uscite che abbiamo per un'acquisizione cittadinanza italiana l'Ucraina si attesta il quinto posto e come il Pakistan rispetto all'anno precedente ha un trend di crescita complessivamente quando parliamo di stranieri residenti in Trentino parliamo nel 30% dei casi di cittadini comunitari e nella maggioranza dei casi di cittadini che arrivano da un paese europeo dicevo che gli stranieri in Trentino incidono per l'8,6% questo grafico per mostrarvi che si tratta di un'incidenza che è inferiore sia a quella media italiana che a quella diciamo di altri contesti del nord-est e inferiore anche a quella che si registra in provincia di Bolzano appunto 8,6% di incidenza sul totale a Trento in provincia di Trento 10,3% in provincia di Bolzano quindi sono lontani i tempi in cui l'incidenza che si registrava in questo territorio era sopra invece anche alla media del nord-est un altro dato interessante riguarda sicuramente i nuovi permessi rilasciati nel 2023 che sono in forte contrazione rispetto a quelli che si erano registrati nel 2022 parliamo di circa 3.300 nuovi permessi rilasciati come vedete il principale motivo rimane la famiglia quindi arrivi collegati a ricongiungimenti familiari quasi 41% rispetto all'anno precedente è crollato il numero di nuovi rilasci per protezione quindi permessi che erano stati rilasciati a cittadini ucraini crollati appunto da complessivamente da 2.500 che erano nel 2022 a 900 nel 2023 la protezione l'asilo comunque rimane una componente importante delle motivazioni pari al 27,5% il lavoro solo il 15,4% nel caso poi del Trentino sicuramente quando parliamo di lavoro e di nuovi permessi rilasciati per lavoro una quota importante riguarda il lavoro stagionale il dato sui soggiornanti non comunitari quindi cittadini non comunitari titolari di un regolare permesso di soggiorno ci dicono che sono diminuiti da un anno all'altro circa 1.400 in meno anche in questo caso incide diciamo l'effetto ormai esaurito dei permessi per protezione temporanea rilasciati a cittadini ucraini parliamo complessivamente di 30.800 persone circa in questo volume complessivo i lungosoggiornanti incidono per il 56% che è una quota che in Trentino negli ultimi anni sta diminuendo ed è diciamo inferiore in maniera piuttosto significativa anche a quella che si registra complessivamente nel nord est le dinamiche che hanno interessato la popolazione straniera residente in Trentino nel 2023 anche in questo caso dati che andranno poi confermati ci hanno mostrato come dicevo l'aumento dei residenti anche grazie alla conferma di un volume importante di nuove iscrizioni di stranieri dall'estero ma risentono in maniera importante da anni ovviamente anche di quello che avviene sul fronte acquisizione di cittadinanza e sul fronte nuove nascite come potete vedere dal grafico negli ultimi dieci anni le nascite da genitori entrambi straniere hanno continuato a diminuire diminuiscono anche tra 2022 e 2023 siamo sotto i 500 nati da entrambi i genitori stranieri tra l'altro questa componente rispetto a quella dei nati da padre italiano madre straniera madre italiana e padre straniero sono quelli che diminuiscono in maniera percentualmente più importante si tratta comunque di una componente che rappresenta il 13% del totale delle nascite se noi consideriamo però le nascite da coppie con almeno un genitore straniero l'incidenza rimane ancora importante pari al 24% su questo trend di cui sentiamo sempre molto parlare e che ci fa anche capire quando compariamo diciamo mettiamo in comparazione il trend che riguarda ormai da molti anni la popolazione italiana e i nati da cittadini italiani e quello che accade nella popolazione straniera ci fa capire come nel tempo i cittadini stranieri si siano avvicinati evidentemente ai comportamenti riproduttivi degli italiani ma ci mostrano anche quanto pesa in questo senso il calo progressivo delle donne stranieri in età fertile quindi tra i 15 e i 49 anni e loro ovviamente anche invecchiamento abbiamo calcolato che le donne appunto stranieri in età fertile sono 13.300 circa nel 2023 ma dieci anni fa erano 16.700 quindi vediamo insomma una contrazione veramente molto importante che avrà un impatto anche nel prossimo anno sul dato ovviamente dei nati stranieri dicevo appunto che i movimenti che hanno riguardato la popolazione straniera hanno risentito in maniera anche nel 2023 in maniera importante delle acquisizioni anche se nel 2022 le acquisizioni cittadinanza italiana erano state 3.200 circa ma come avete visto nel video questo era accaduto anche come effetto della ripresa delle procedure amministrative post covid nel 2023 si esaurisce questo effetto ma resta il fatto che le acquisizioni cittadinanza italiana sono comunque più di 2.000 con un tasso di acquisizione per mille residenti che è molto importante e molto elevato in Trentino molto più che nella vicina provincia di Bolzano e più elevato anche di quello medio italiano si tratta di acquisizioni che hanno coinvolto donne nel 51,5% dei casi e il dato regionale quindi questo era il dato provinciale dato regionale con le stime INSTAT ci consente anche una osservazione che riguarda le modalità di acquisizione di cittadinanza italiana nel caso appunto della regione Trentino Alto Adige le ultime stime ci dicono che nel 2023 queste acquisizioni sono avvenute nel 47% dei casi per residenza quindi naturalizzazione una quota veramente molto importante la quota per matrimonio negli anni ha perso gradualmente importanza e si attesta al 10% ma il 43% è rappresentato da acquisizioni che sono avvenute per il canale o della trasmissione ai figli minori da parte dei genitori diventati italiani e questo peso sia il canale in questa voce che predominante sicuramente poi in questa voce rientrano ma con un peso probabilmente inferiore le acquisizioni per elezione quindi persone diventate diciotteni che sono nate hanno vissuto in Italia e poi le acquisizioni per discendenza delle osservazioni sicuramente importanti riguardano anche gli studenti gli alunni con cittadinanza non italiana sono tornati a crescere nel anno scolastico 2022-23 rappresentano il 12,5% del totale della popolazione scolastica in provincia parliamo di circa 9700 alunni come avete sentito nel video la quota tra gli stranieri dei nati in Italia è veramente rilevantissima anche in Trentino due stranieri su tre sono nati in Italia nel caso poi della scuola dell'infanzia oltre l'80% degli stranieri è nato in Italia ma nell'ultimo anno scolastico per cui i dati sono a disposizione si nota una contrazione comunque della componente straniera nata in Italia che riguarda tutti gli ordini tranne la scuola secondaria e secondo grado dove invece abbiamo una crescita importante di questa componente rimando a un report di ISPAT che ha lavorato anche con IRVAP e IPRASE su alcuni dati molto interessanti relativi a studenti che hanno terminato il primo ciclo dell'istruzione anni fa e che quindi sono stati al centro di un'osservazione per vedere i loro percorsi di istruzione quindi scelte della scuola secondaria di secondo grado e poi percorsi nel mercato del lavoro lo riporto per dire quanto è importante fa la differenza il luogo di nascita degli studenti in questo approfondimento è emerso che la probabilità di scegliere un liceo tradizionale quindi classico scientifico linguistico è doppia per chi è nato in Italia rispetto a chi è nato all'estero e la probabilità di iscriversi a un percorso di istruzione formazione professionale è doppia per chi è nato all'estero rispetto a chi è nato in Italia la cosa molto interessante che rilevano questi dati è però che rispetto a questa variabile quindi il luogo di nascita e anche per esempio alla variabile di genere un effetto che annulla l'impatto di queste variabili è dato dal voto all'esame finale del primo ciclo e all'impatto che ha il ritardo scolastico sulle scelte poi in uscita le scelte della scuola secondaria superiore quindi diciamo in sintesi aver essere usciti con un buon voto all'esame finale del primo ciclo al di là di dove sei nato fa la differenza fa scegliere con maggiore probabilità un liceo rispetto che ha un percorso in formazione professionale qualche elemento anche per quanto riguarda il mercato del lavoro forse insomma l'avrete letto lo avrete sentito anche in questi giorni perché è stato ripreso anche dal presidente di Confindustria Trento ma già Banca d'Italia in un recente report ha messo in evidenza le difficoltà nel riperimento di mano d'opera si sottolinea quanto queste difficoltà siano in crescita negli ultimi anni e che siano molto elevate più in Trentino in Alto Adige che nel resto d'Italia e da più parti continuiamo a sentire ripetere che c'è una forte preoccupazione rispetto all'invecchiamento della forza lavoro e agli scenari demografici che riprendono un po' quello che abbiamo visto in particolare invecchiamento appunto della popolazione e diminuzione importante dei nati del numero di nati in un contesto dove quindi c'è una certa consapevolezza ormai sia delle sfide che riguardano breve medio lungo periodo che le difficoltà attuali di riperimento di mano d'opera soprattutto per alcuni ruoli nel mercato del lavoro va detto che in Trentino nel 2023 le assunzioni di stranieri sono cresciute sono oltre 54 mila e rappresentano ancora una quota molto importante delle assunzioni provinciali 31,2% chiaramente poi abbiamo alcuni ambiti del mercato del lavoro dove incidono in maniera molto più rilevante pensiamo prima di tutto all'agricoltura interessante continuare a monitorare sicuramente le dinamiche che riguardano il lavoro domestico e di cura i dati dell'Inps ci stanno mostrando che negli ultimi anni gli occupati sia italiani che stranieri in questo comparto stanno continuando a diminuire anche questo un aspetto preoccupante per quanto riguarda il mercato del lavoro perché la popolazione invecchia gli occupati invece in questo ambito diminuiscono e non sappiamo anche se però aumentano le persone occupate ma in nero sono in calo resta il fatto che la componente straniera incide ancora in maniera molto importante per il 74% dei casi il numero di imprese gestite da immigrati è rimasto stabile da un anno all'altro le imprese gestite da immigrati incidono per l'8% e sono concentrate soprattutto nelle costruzioni e nel commercio la componente albanese ha diciamo rinforzato il primato col 17% sul totale seguita dalla componente rumena chiudo con qualche dato sull'immigrante in sistemi di accoglienza provinciali abbiamo un dato al 15 giugno 2024 quando nei progetti di accoglienza straordinaria erano ospitati 711 richiedenti in crescita rispetto al dato di fine 2023 ricordiamo che i posti attivati disponibili sono 730 in questo caso la componente maschile è schiacciante come pure la concentrazione nel territorio della valle dell'Adige il Pakistan rimane sicuramente la nazionalità più presente ma con una incidenza in diminuzione perché sta aumentando molto la componente dal Marocco sempre a metà giugno 2024 erano invece 305 richiedenti protezione temporanea ucraini sappiamo che qui la componente femminile invece è molto più importante così come la quota dei minori e per proprio per quanto riguarda i minori i dati più aggiornati del ministero lavoro delle politiche sociali sui minori stranieri non accompagnati ci dicono che alla fine settembre erano presenti i tretino 77 minori stranieri non accompagnati erano 101 un anno prima 74% sono maschi i primi gruppi sono Ucraina Marocco e Albania nel caso dell'Ucraina va detto che la composizione di genere e la composizione per età è particolarmente diversa rispetto a quella che vediamo tra i minori stranieri non accompagnati dal Marocco e dall'Albania perché nel caso dell'Ucraina c'è un maggior bilanciamento di genere e una presenza di minori anche nelle fasce più piccole diciamo di età grazie per la vostra attenzione grazie grazie a Serena Piovesana anche un apprezzamento per la sua attenzione per la fatica di dover restringere una presentazione in poco tempo quindi grazie davvero restiamo sempre dall'altra parte della strada e quindi restiamo sempre con i colleghi sociologi Paolo Boccagni credo non abbia bisogno di presentazioni anche perché insomma io lo ricordo quando ancora la presentazione del dossier si faceva economia a cura del CINFORMI altri tempi decisamente molta acqua è passata sotto i ponti e non solo acqua e Paolo Boccagni questa sera ha accettato di essere qui con noi e lo ringrazio in particolare perché è un po' l'alter ego del dietro i dati e dentro i dati ci sono le persone Paolo Boccagni ha scritto questo libro molto molto bello a leggere le recensioni faccio come San Giuliano lo leggerò per adesso ho letto le recensioni scusate mi è venuto proprio che cosa stupida però però il titolo del libro Viteferme dà proprio la netta sensazione di come molte persone tra quelle che Serena ci ha presentato aggregando i numeri sono persone in attesa in attesa da tempo per un tempo che ancora forse non è dato conoscere sapete che la burocrazia italiana non si smentisce nella sua storia quindi adesso non le parrà vero di non avere solo i cittadini da vessare ma anche i non cittadini del nostro Paese ma naturalmente sempre cittadini di qualche Paese sono quindi chi attende una decisione sul suo status sul suo futuro e non sa non sa come ingannare il tempo e soprattutto non sa credo come valorizzare il tempo che è stato necessario per raggiungere il nostro Paese prima parlavo brevemente con la dottoressa Fere Powell di Astalli che mi raccontava di quali grandi fragilità e preoccupazioni anche si vedono rispetto alla salute psichica delle persone che raggiungono il nostro Paese e che nel nostro Paese sono con la vita ferma in attesa a Paolo Boccagni quindi il compito di illustrarci seppur in questo tempo rado il tempo dell'attesa e il senso di un sistema grazie e buonasera a voi la mia presentazione voleva venire dopo quella di Serena più avesa anche come sempre ci ha dato un quadro lucido e preciso dei dati per partire dai dati ma andare un pochettino oltre i dati raccolti bene come in questo caso con l'IDOS IDOS hanno il grande peggio che ci aiutano a dare una dimensione alle cose a stare nel registro della realtà e non delle fantasie dei miti delle paure di turno ma con tutta l'importanza che hanno per le politiche e per tutto quanto non sono ancora un punto di arrivo perché non sempre bastano per andare oltre una barriera che io sento essere un aspetto particolarmente inquietante per il dibattito su questi temi cioè tra le persone che comunque anche a prescindere dai dati di una certa misura hanno sensibilità interesse motivazioni a accompagnare i processi migratori in un modo o nell'altro e le persone che comunque almeno una parte della popolazione hanno una certa dose di ostilità di principio magari anche alimentata da povertà da fatiche di vita importanti da un certo tipo di discorso politico e così via per cui si possono tirare fuori tutti i dati del mondo ma non cambia più di tanto la percezione secondo me uno delle sfide più importanti è come lavorare per colmare un pochettino la distanza tra questi due mondi e uno dei tanti modi in cui lo si può fare uno di quelli in cui ho cercato di lavorare di più nel mio piccolo negli ultimi anni ha a che fare con le storie scrivere e raccontare storie vuol dire lavorare su un terreno di aspetti di vita che in parte sono condivisi da tutti e da tutte vuol dire raccontare come dentro la situazione spesso oggettivamente penalizzata e discriminata dalle persone con una storia di immigrazione all'ospedale ci sono anche aspetti che non hanno a che fare con l'essere rifugiato immigrato profugo o qualsiasi altra cosa ma nel mio libro con l'essere ragazzi di vent'anni nati forse nel paese sbagliato o nel posto sbagliato che attraverso il rischio della migrazione cercano di avvicinarsi un pochino di più ai loro sogni ma anche alle aspettative che si hanno verso di loro che sono essenzialmente quale che sia il paese da qui vengo aspettative di diventare persone adulte responsabili in grado di farsi carico delle famiglie e delle persone fragili che stavano con loro è paradossale da un certo punto di vista anche se una cosa abbastanza nota anche se su questi temi che persone nulla tenenti che appaiono come mosse dalla disperazione che oggettivamente rischiano la propria vita un numero di volte per arrivare qui se mai arrivano qui siano sempre e comunque dal punto di vista di chi è rimasto nei paesi da cui vengono persone forti risorse responsabili per il benessere e il miglioramento di vita di tutti vite ferme è la storia di alcune di queste vite che come tante come centinaia di migliaia di altre non sono ancora riuscite a realizzare questo sogno e dovere morale allo stesso tempo procurarsi una vita migliore per sé e per le famiglie da cui si viene a partire dalla autonomia il libro è una storia frutto di una etnografia quindi di un lavoro di osservazione partecipante che ho avuto il privilegio di poter fare per quattro anni in un centro di accoglienza che parla di spazi abitati nella vita quotidiana di luoghi stanze corridoi piani e di persone che abitano questi spazi per un certo numero di anni sono persone che convenzionalmente chiamiamo migranti che in realtà sono le meno mobili di tutte perché non hanno diritto alla mobilità se non a condizione di perdere quella minima tutela giuridica e sociale che hanno sono persone che hanno alle spalle percorsi di migrazione rischiosi complessi controversi ma che si trovano una volta arrivati in Italia sparcati passati per la redistribuzione sul territorio e così via in una specie di bolla di spazio e di tempo che tipicamente dura due tre anche quattro anni una bolla che è uno dei possibili per fortuna non l'unico sviluppo dell'accoglienza che è fatta di una condizione molto ambigua perché nessuno almeno non in questi casi è letteralmente lasciato per strada un letto un tetto sopra la testa per un certo periodo finché ci sono le condizioni minime i requisiti di legge minimo ci sta tutto il resto non ci sta e negli anni con i tagli delle politiche di accoglienza a livello nazionale e poi nel nostro piccolo come sappiamo anche qui ci sta molto meno l'idea è che raccontare le storie la vita quotidiana di persone con cui ho avuto la fortuna di poter passare un po' di tempo per un po' di anni sia da un lato un modo per coprire quello che secondo me è un buco abbastanza importante che c'è nel dibattito sul tema finché le persone stanno in mare o perlomeno finché si arriva alla zona degli sbarchi c'è un certo grado di attenzione mediatica sul tema con tutte le semplificazioni del tema con quel pezzo ci stanno un sacco di problemi drammatici ancora ma quello che succede lì nel bene o nel male lo si sa una volta che le persone sono salve nel senso fisico corporeo del termine tutto quello che c'è dopo meno da un certo punto di vista meno lo si vede meglio è l'accoglienza quando funziona in modo residuale soprattutto per limiti di investimento da parte degli enti pubblici diventa un processo per cui ok un posto per ora c'è ma ai margini in una posizione di visibilità minima con tutta una serie di contraddizioni che poi vengono fuori nel tempo allo stesso tempo l'idea di questo libro è un tentativo con tutti i limiti del caso di cercare di parlare un pochettino fuori da questo palazzo o da quello di fronte o da tutta questa bolla in cui comunque stiamo per cui tra esperti tra addetti da voi ci si capisce bene ma la comunicazione con il resto del mondo fa tanta tanta fatica l'idea è che stando o almeno il desiderio è che stando su un registro di narrazione che parla di vite che assomigliano per certi aspetti a tante altre soltanto più planizzate più disuguali si possa creare un terreno per cui non si incontra più il rifugiato l'immigrato tutti gli aggetti che volete voi ma una persona particolare con un suo nome con una sua identità con una storia e magari a volte si scopre che alcune di queste storie sono interessanti che aprono spazi di curiosità ma anche di comprensione di tante questioni importanti per tutti come quelle che hanno a che fare con che cosa vuol dire essere giovani sentirsi in una specie di limbo che per i giovani autoctoni non è così pesante ma comunque c'è come vuol dire stare negli spazi di vita di tutti i giorni avendo i propri gusti di vita sensibilità modelli di consumo modelli di vita adulta e così via è un racconto che parla di una casa in particolare ma che cerca di lavorare sulle comunanze sul punto di contatto tra questa casa e un sacco di altre è un lavoro che ha a che fare con il racconto di un tempo quello in cui si sta comunque nelle maglie dell'accoglienza che è potenzialmente un tempo in cui si potrebbero fare un sacco di cose ma se non ci sono i mezzi i sostegni e le motivazioni si rischia di passare anni in cui la sopravvivenza c'è ma il resto non si riesce a crearlo ed è un libro che cerca di raccontare storie che guardano dopo fatto di persone che ho avuto appunto la fortuna di incontrare alcune sono sicuramente passate anche per i servizi di Centrostali piuttosto che di Atas piuttosto che delle altre associazioni del territorio una sola di queste Salim purtroppo non è più tra noi perché è mancato l'anno scorso il punto è cercare di da una parte per me come ricercatore di mettere nero su bianco di tenere di salvare qualche cosa di percorsi di vita che hanno una visibilità molto bassa ma che si dimenticherebbero nel tempo e tra l'altro cercare nel farlo di raccontare che a prescindere dalle visioni politiche ideali bla 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 ci possono essere delle cose interessanti da leggerci e da scoprire anche per chi non ha un interesse specifico con il tema con l'idea di fondo con questo chiudo che come ha scritto qualche anno fa una grande scrittrice di cittadinanza inglese e di origine turca che si chiama Elif Shafak ha scritto un sacco di belle storie abbiamo bisogno non soltanto di dati di conoscenza ma anche di storie di passare per canali che rispetto alle non persone che gli immigrati sono sempre stati ma oggi probabilmente lo sono ancora peggio di prima cerchino di umanizzare di raccontare di quello che è comune a tutti tutte e forse un po' alla volta sgranino un pochettino la barriera in cui sono costretti loro ma in cui spesso è costretta anche la comunicazione tra chi sta sul tema e il resto del mondo questo è l'idea di vite ferme storie di migranti in attesa grazie 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 a Paolo Boccagni perché ci ha ci ha fatto nascere la curiosità di scavare nelle pagine e d'altra parte pensavo è proprio la letteratura a volte che ci mette di fronte le storie le vite e ci fa passare da uno sguardo distratto e assolutamente indifferente a uno sguardo curioso almeno curioso e poi dalla curiosità si passa a scoprire qualcosa di più impegnativo che ci interroga sì pensavo a un libro che mi ero segnata ai tempi per il corso un libro di un francese Benoit Cohen Muhammad mia madre e io che racconta la storia di questo rifugiato afgano che viene accolto in casa dalla mamma di questo scrittore che non vive a Parigi ma che ormai è negli Stati Uniti e da questa stranissima relazione di ospitalità nasce la scoperta di un mondo e lo scrittore dice ma Muhammad e io abbiamo lasciato entrambi il nostro paese viviamo in terra straniera io avevo voglia di cambiare aria lui per salvarsi la vita lui non aveva altra scelta io sì io ho potuto scegliere il mio paese di adozione gli Stati Uniti lui no lui non aveva denaro io sì io mi sono subito sentito a casa lui no tutta la differenza sta in una parola sola welcome se non ci si sente benvenuti non ci si può integrare questa poi è un'altra storia però per dire che è attraverso forse pagine come le pagine scritte da Paolo Boccagni le pagine scritte da tanti autori e autrici che hanno toccato da dentro da fuori dal margine da lontano il tema delle migrazioni che forse possiamo cominciare ad andare oltre le nostre i nostri pregiudizi le nostre resistenze l'indifferenza che si fa a suefazione sicuramente chi non è a suefatto è Stefano Graif presidente del centro che è stato citato anche da Paolo Boccagni al quale passo subito la parola bene grazie e una buonasera a tutti voi grazie di avermi coinvolto in questo importante momento cercherò di portare alcune riflessioni per aiutare a ragionare insieme perché penso che l'occasione della presentazione di un rapporto al di là del fatto che presenta i numeri e devo dire che in una società come quella di oggi dove si tende molto a mistificare e a costruire paure anche i numeri hanno un ruolo importante perché riescono a togliere quel velo di falsità o di false certezze che spesso accompagnano i dibattiti specie su questo tema e soprattutto i numeri dicono una cosa che viviamo ma non è una cosa nuova viviamo in un mondo che si muove in una civiltà in movimento ma questo non è di oggi questo è di sempre perché fin dall'antichità i popoli le persone si sono spostate si sono mosse e quindi il viaggiare il muoversi fa parte dell'essere stesso dell'umanità però è importante quello che diceva adesso il professor Boccagni è straordinario capire e cercare di andare al di là dei numeri e provare a comprendere non solo il fatto che i numeri rappresentano delle persone a me piace sempre citare quel passaggio di un diario di guerra di un trentino delle valgiudicarie che si è trovato nella prima guerra mondiale e dice la guerra di oggi ha una cosa drammatica che si diventa come gocce di un fiume di lava che lentamente procede e se una goccia prova a far sentito la sua voce viene sopraffatta dal orgoglio spumante del fiume è un po' questo le statistiche i numeri sono importanti ma ci devono stimolare a dare voce ad ognuno di questi di questi numeri ecco il tema del intervento è lo stato di salute dell'accoglienza del trentino io penso che per dare questa risposta dobbiamo fare un passo indietro dobbiamo chiederci qual è lo stato di salute della comunità trentina perché credo che ci sia un legame inscindibile fra accoglienza e comunità l'altro giorno ero a una presentazione a un dibattito di questi che si fanno in questo periodo sull'autonomia ero saluto vicino a un mio amico e mentre si dibatteva di data center di economia di grandi visioni di grandi e lui si è avvicinato e mi ha detto ho l'impressione che siamo tornati nel medioevo io l'ho guardato e ho detto ma come se parla di data center mi parli di medioevo dice perché ho l'impressione che siamo come chiusi dentro un castello dove ce la raccontiamo ci diciamo quanti sono bravi quanto siamo evoluti quanto sappiamo guardare avanti però ahimè fuori del muro del castello i numeri di quelli che vengono espulsi sono drammaticamente sempre di più e in tutti questi dibattiti sono sempre gli assenti perché se voi vi guardate i temi che vengono proposti difficilmente trovate un dibattito dove si faccia un ragionamento sulle povertà che non sono solo quelle dei profughi dei migranti ma sono le povertà di una comunità povertà che crescono sempre di più e che sono ormai relegate al di fuori delle mura di questo castello allora dobbiamo porci insomma questa domanda la settimana scorsa ero a un confronto 15 giorni fa in Val di Sole e si ragionava sul flusso del Marocco come mai dal Marocco allora abbiamo detto ma voi sapete che c'è stato un terremoto è un signore di 60 anni gli anni 60 mi ha detto ma sì anche negli anni 60 ma ce n'è stato uno l'anno scorso che ha fatto 3.000 morti e migliaia e migliaia di persone che sono fuggite allora bisogna che ci rendiamo conto che purtroppo chiusi in questo castello in queste mura stiamo perdendo di vista quello che è la realtà del mondo il assunto del dossier che è stato inviato parla di un mondo ormai invivibile dove zone intere del paese non sono del pianeta non sono più non sono più vivibili dalle popolazioni e questo spinge chiaramente a muoversi e a fuggire allora credo insomma che dobbiamo prendere coscienza di questo prendere coscienza di tornare a essere comunità comunità attente perché i muri di questo castello che sono molto molto forti vengono continuamente rinforzati dalle paure da questa sindrome di insicurezza di cui parlate anche sul dossier e che derivano anche da una politica che ha cessato di essere quello che dovrebbe essere cioè la capacità di costruire sistemi di futuro per tutti a partire dall'inclusione a partire dalle risposte ai bisogni di tutti i cittadini si è trasformata in un mercato del consenso che viene costruito cercando di fare quello che ahimè negli anni 20 teorizzava Mussolini cioè di scavare nel risentimento delle persone e questo oggi è un esercizio che si fa molto e troppo e quindi bisogna riprendere credo coscienza di questo altrimenti tutto passa nel silenzio si rischia di dibattere di confrontarci sul tema dei migranti perdendo di vista il cuore centrale che si parla appunto di persone che si parla come si diceva prima ci fermiamo a discutere dei sistemi di organizzazione ma ci dimentichiamo che dentro questo ci sono delle persone che sono titolari di diritti e permettetemi fare questo passaggio ma una cosa che non si dice mai è che ci sono dei diritti che vengono quotidianamente violati perché la nostra costituzione sancisce che le persone che arrivano in Italia ha diritto di aver attivato il percorso per accertarne la possibilità di essere accolto in asilo politico o protezione internazionale lasciare 6, 7, 8 mesi queste persone sotto i ponti non rispondere a questo loro diritto è una grave violazione ma così come qui forse mi spingo in un terreno che non è mio ma ci provo così come quest'idea di fissare per decreto chi ha e chi non ha diritto a prescindere dai percorsi personali per la loro la solo questione del luogo da dove provengono la dichiarazione dei diritti dell'uomo dice ciascun uomo la costituzione dice ciascun uomo cioè dice l'individuo non la categoria di individui che vengono dal Marocco o dall'Egitto e non posso fissare per decreto che chi viene dal Marocco o dall'Egitto viene da paese sicuro e non ha diritto a prescindere di avere riconosciuto questa istrua istanza deve esserci un percorso personale perché definire il Marocco un paese sicuro può essere però abbiamo detto che ci sono zone del Marocco dove non è più possibile vivere definire l'Egitto un paese sicuro sarebbe bene capire cosa ne pensano i genitori di Giulio Reggeni per fare un passaggio ecco quindi credo che l'unico confine vero che dobbiamo difendere a questo punto e non è un confine esterno ma un confine di ognuno di noi è quello che corre fra l'umanità e la disumanità tra la civiltà e l'inciviltà questo è il confine che dobbiamo che dobbiamo difendere quindi misurare lo stato di salute dell'accoglienza trentina deve partire da questo da un'analisi sulla nostra comunità noi dobbiamo riflettere su questo tema ma anche da dare una risposta a una domanda di fondo sostanzialmente come siamo capaci noi oggi di essere terra da prodo di centinaia di persone che arrivano e in Trentino e in Europa perché chi parte dal Pakistan chi parte dal Marocco chi parte tutti i paesi di provenienza affida alla nostra società il compito di essere il luogo dove investire il proprio futuro e i propri sogni come siamo in grado noi oggi di essere questo luogo oggi non lo siamo o difficilmente lo siamo anzi quello che diceva prima la professoressa Borgonovo e che riportava la nostra dottoressa Ingrid è vero se c'è un dato incontroversibile che se fino a qualche anno fa le persone che arrivavano potevano iniziare da subito i percorsi di integrazione di apprendimento della lingua italiana e i percorsi sociali oggi hanno bisogno di essere ricostruiti come donne e come uomini perché questi luci questi viaggi che non terminano mai demoliscono quotidianamente la loro dignità ma soprattutto li rendono fragili psicologicamente e portano a persone che sono gravemente compromesse se poi questo lo assommiamo alla scelta di concentrare tutto su Trento e magari in casca e non finiscono mai di esistere si crea l'ingrediente perfetto per quello che poi è lo sfociare nella violenza lo sfociare in elementi di deriva ecco altro tema sul quale è bene riflettere è che se dobbiamo fare un ragionamento su come sta l'Accoglienza Trentina bisognerebbe anche capire come è cambiata nel tempo e ahimè è un dato incontrovertibile che negli ultimi anni ha perso quei connotati di organizzazione di governo di sistema che aveva fino a un certo punto ed è diventata di nuovo emergenza fra qualche giorno comincerà di nuovo l'emergenza freddo in Trentino come se fosse una scoperta straordinaria che a Trento l'inverno fa freddo può darsi sì ecco quindi questo insomma ci dice quanto questa dimensione della capacità di governo di un sistema non sia colta e che il sistema venga sempre governato continuamente come come un'emergenza continua e quindi allora e un altro dato che mi piace sottolineare è che lo diceva prima il professor Boccagni vite ferme vite in attesa viaggi direi che non finiscono mai ho avuto la fortuna di vivere con un gruppo di operatori un'esperienza a Biac due anni fa e di vedere dove queste persone attendono per mesi la possibilità di fare questo lo chiamano game questo tentativo di passare la frontiera e vivono in situazioni di povertà che sono drammatiche e tante volte ci siamo chiesti e quando arrivano a Trento cosa gli diamo mesi di nuovo delle stesse situazioni diciamocelo Trento non è più la meta Trento è una parte del viaggio perché chi arriva qui avrà altri sei sette mesi di attesa in queste condizioni questo credo che ce lo dobbiamo porre l'insicurezza l'idea di insicurezza che viene costruita perché chiaramente lo sappiamo che è il meccanismo migliore per costruire consenso è voluta e costruita in questo modo ma l'unico modo ed ecco perché credo la parte politica che ci governa scusate se sono su questo chiaro non vuole ragionare in termini di accoglienza diffusa perché lo diceva prima molto bene il professor Boccagni la prima cosa che demolisce la paura è la conoscenza e il portare le persone a contatto con le comunità demolisce tutta questa costruzione di paure di indifferenze che sulla quale sulla base della quale si costruisce il consenso e si costruisce un sistema che punta a disincentivare gli arrivi a Trento a chiudere il Trentino a portare le persone fuori a fare in modo che le persone che arrivano possano fermarsi il meno possibile magari buttando lì soluzioni veloci come i CPR che non c'entrano nulla e che non danno risposte reali senza dire che poi magari mancano anche accordi bilaterali con i paesi che consentono di fare i rimpatri e quindi bisogna diventare dei lager dove richiudiamo le persone finché riusciranno a rimpatriare però ecco dopo questo ragionamento un po' fosco devo anche dire ed è giusto dirlo che se dobbiamo misurare anche il sistema di accoglienza a Trentino ci sono anche delle luci e chi poi parlerà dopo di me ci racconterà un'esperienza in questo senso Don Ciotti qualche anno fa quando erano da Trento diceva che è del buio che brillano le stelle ed è vero insomma ci sono delle esperienze positive sono le decine di volontari che ancora si occupano quotidianamente di dare risposta alle persone che arrivano volontari operatori operatrici a Trento e sui territori ecco forse a noi a chi ci prova ci viene chiesto qualcosa di più oggi credo e con questo chiudo ci viene chiesto di tornare a lavorare e torno all'inizio del mio ragionamento nelle comunità e sulle comunità dobbiamo fare uno sforzo attraverso anche strumenti come quelli che ci ha illustrato prima il professore i volumi i racconti le storie per continuare a dare a voce a chi non ha voce a chi sta fuori dalle mule del castello perché noi abbiamo questo dovere ma soprattutto per ricostruire nella comunità trentina la coscienza che se la smettiamo di vivere questo tema come un problema e cominciamo a viverlo come un'occasione straordinaria un'opportunità probabilmente riusciremo a costruire sistemi di governo molto più efficaci d'altra parte glielo stanno un po' dicendo tutti gli ha detto la confindustria qualche settimana fa glielo dice la chiesa glielo dicono le associazioni speriamo che prima o poi forza martellare ci si accorga che in realtà il problema è questo ma questo vale per il trentino vale per il nostro paese vale anche per l'Europa che drammaticamente sta prendendo una piega e una strada che è il contrario ragionando su esternalizzazione dei confini su quest'idea di portare negli stati satellite i CPR tanto giorno mi veniva una battuta posso farla non mi arrestano dico che a certe parti politiche l'Albania ha sempre dato un fascino particolare e chiudo così grazie 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 a Stefano Graif ha ragione Stefano il tema è quello della comunità se solo le comunità riuscissero a recuperare un protagonismo e a mostrare anche la capacità di vedere oltre le barriere i limiti le falsità anche perché davvero credo che non ci sia un altro tema come quello delle immigrazioni su cui si scatena la fantasia dei falsari con una ricchezza di capacità inventiva davvero degna di miglior caos però ecco Stefano Graif ci ha dato l'assist per completare questa questa cavalcata attraverso la testimonianza di Chiara Gober dell'associazione Trame e Terra che è tra me e te ci sono delle maiuscole collocate lì al centro una bellissima associazione che viene dal Primiero e quindi io l'ho sempre definita la Repubblica Autonoma del Primiero perché sta là un po' distante dal centro e Chiara Gober condividerà con noi gli effetti delle migrazioni sui territori di accoglienza questo è il tema che ha accettato di su cui ha accettato di riflettere e il suo compito è proprio quello di dirci se la comunità trentina ha ancora da ancora segnali di vita ed è ancora in salute almeno in alcune sue parti perché poi insomma si può sempre pensare che gli esempi virtuosi se conosciuti e se diffusi possano essere attrattivi grazie Chiara allora ringrazio innanzitutto per la presentazione spero non siano state create troppe aspettative e ringrazio moltissimo per l'invito che ci ha accolti come dire tanto con tanto piacere che abbiamo accolto con tanto piacere e anche tanto stupore perché appunto siamo una realtà piccola la mia l'associazione per la quale lavoro è una realtà piccola Primiero lo è l'incidenza dei migranti lo è la popolazione è tutto piccolo e però forse prima riflettevo parlando con Riccardo Santoni del forum forse dal piccolo alle volte che si riesce a lavorare anche in una maniera diversa sicuramente siamo stati da un certo punto di vista pur nel nostro essere noi ripetiamo no? siamo periferici la parola periferico è rindondante nel raccontare la realtà di Primiero da tanti punti di vista e abbiamo potuto lavorare con il piccolo lavorare con il piccolo significa però anche poter sperimentare delle pratiche che poi chissà non so se sono delle buone pratiche però sono delle pratiche che abbiamo tentato di mettere in campo l'associazione è nata nel 2008 è un'associazione intrinsecamente interculturale nel senso siamo circa una ventina di soci attualmente migranti italiani con provenienze molto diverse io sono l'unica persona che in questo momento lavora per l'associazione perché coordiniamo per la comunità di valle di Primiero alcune attività e alcune iniziative collegate al tema dell'emigrazione dell'intercultura dell'accoglienza e del dialogo c'è una parte quindi operativa lavorativa che portiamo avanti ed una parte prettamente associativa quindi di promozione culturale di relazione col territorio questa slide forse sintetizza tutto perché perché siamo nati perché tutto quello che vi andrò a raccontare perché c'è Trento e c'è la comunità di Primiero forse in linea d'aria la distanza non è neanche epocale certo è che le strada per raggiungerla insomma ci vuole un'ora e mezza in macchina un'ora e quaranta e in autobus con un mezzo pubblico diventano tre ore tre ore e mezza un tempo veramente lungo lo sottolineo perché perché poi vi racconterò cosa è stata l'accoglienza ne abbiamo fatto parte del processo di accoglienza diffusa ecco tre ore e mezza da Trento anche perché raccolto all'inizio non è stato semplice e cosa fa sì cosa comporta questa distanza comporta anche che non possiamo per tanti aspetti appoggiarci usufruire mutuare dei servizi che altrove sono attivi facevo prima l'esempio banale se noi abbiamo bisogno di un corso di lingua non possiamo chiedere a una persona di partire andare al centro eda di borgo che è il più vicino per noi perché significa un'ora di strada significa che dopo lavoro questa persona deve prendere la macchina deve fare un'ora magari d'inverno con la neve insomma quindi in un qualche modo abbiamo dovuto cercare in questi 16 anni di attività di mettere in campo tutta una serie di iniziative che andassero a sopperire alla mancanza in qualche modo di servizi i numeri non sono dalla nostra parte i migranti non sono così tanti questo è l'ultimo dato che era pubblicato sul sito dei cinformi l'incidenza è quella di un 3,1% dei residenti quindi abbiamo avuto dei periodi in cui era il 4% ma insomma i numeri sono quelli siamo quindi una comunità che ha sempre pensato e ragionato anche sui numeri piccoli 16 anni di attività parto dal 2008 non perché con la nostra associazione sia nato tutto intendiamoci in realtà le prime migrazioni grosse a Primiero sono arrivate negli anni 90 c'è stata una fortissima immigrazione dalla ex Jugoslavia di persone oriunde che erano come dire discendenti delle persone che erano immigrate verso la Bosnia in particolare nel nostro caso la Croazia durante l'impero austro-ungarico e poi c'è stata una immigrazione albanese ma nel 2008 anche il territorio ha iniziato ad interrogarsi sull'esigenza di interfacciarsi con cittadini sempre più numerosi che andavano a scegliere Primiero per quanto assurdo come luogo di destinazione o comunque come parte del percorso di immigrazione della propria famiglia poi insomma il definitivo è sempre relativo 2008-2015 quindi c'è stata una prima fase 2015-2019 anche Primiero è stato territorio di accoglienza abbiamo fatto parte di questo progetto di accoglienza diffusa e dal 2019 da maggio 2019 più o meno anche le persone che erano accolte nel nostro territorio sono state incoraggiate ad accentrarsi diciamo verso la sede dell'Adige e verso Trento ve li presento così perché perché c'è un filo conduttore fra queste tre step forse l'accoglienza per come è stata pensata anzi mi sentirei di dire sicuramente non ci sarebbe stata se non ci fossero stati i sette anni precedenti di costruzione di una comunità in grado di accogliere quello che è venuto dopo è diventato il frutto dei dieci anni che ci sono stati e anche della sfida che abbiamo affrontato con l'accoglienza è una rete quella che si sviluppa in un territorio così piccolo e io devo dire per quanto ci riguarda è una rete che vede coinvolti anche gli enti pubblici c'è stato sempre in questi anni un sostegno in particolare da parte della comunità di Valle noi collaboriamo col settore sociale della comunità ma anche dei comuni e un po' alla volta un costruire fiducia reciproca in alcuni casi delle gare era un po' anche una situazione di comodo passatemi il termine ma in altri casi invece un stimolare un rispondere con efficacia associazioni e gruppi quindi io vi parlo della mia associazione ma in realtà vi dovrei parlare di una rete di associazioni che noi abbiamo coordinato per quanto riguarda l'ambito delle migrazioni ma che ha sempre valorizzato le competenze specifiche se io devo interfacciarmi all'ambito dei minori interpello a PPM che ha una sede un centro operativo delle persone competenti che lavorano ci sono piccole e grandi associazioni a seconda della tipologia e tutte necessariamente dobbiamo collaborare perché in uno spazio come quello procedere da soli non ha senso non funziona e la cittadinanza è un terzo è un terzo attore che noi abbiamo sempre coinvolto nessuna e mi sento veramente di dire nessuna delle iniziative che vi racconterò brevemente è mai stata rivolta esclusivamente a cittadini migranti se non se non dico i corsi di italiano però riflettevo stamattina mentre ce li pensavo il corso che andrò a concludere domani io sono anche insegnante di italiano per stranieri è fatto di personale degli alberghi che non vengono considerati nelle statistiche perché non hanno le residenze ma passano dieci mesi su dodici nel nostro territorio questo è un dato di fatto e che dopo un po' iniziano a pensare che forse la competenza linguistica potrebbe andare a loro vantaggio ma va a chiaro vantaggio anche di chi quelle strutture di ricezione turistica le gestisce quindi ecco per dire che forse questo è l'unico servizio dedicato ma forse anche questo fin da come ci siamo mossi ci siamo mossi come dicevo prima sempre cercando di tenere le energie su tutti gli ambiti l'ambito dell'educazione dei laboratori nelle scuole è una cosa su cui noi abbiamo sempre investito moltissimo proponendo laboratori direttamente nelle classi dalla primaria anzi dalle materne dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado poi ad un certo punto per cambi nostri interni non abbiamo più avuto la forza di sostenere questo tipo di laboratori e stiamo proponendo adesso da diversi anni delle azioni di formazione per i docenti da soli no anche qua in rete tra di noi o con come dire associazioni e gruppi esterni adesso abbiamo in attivo e stiamo portando avanti un bellissimo corso in collaborazione con forum trentino per la pace e i diritti umani è un esempio ma per noi lavorare sull'educazione è un valore base dal quale non prescindiamo collaborazione con gli enti pubblici ho messo qua una foto che rappresenta una delle cose a cui noi teniamo di più che è la festa della cittadinanza è un'iniziativa che ci siamo inventati ex novo nel 2016 noi ogni due anni perché i numeri sono quel che sono festeggiamo pubblicamente i nuovi cittadini che acquisiscono la cittadinanza italiana cioè facciamo uscire dall'ufficio del sindaco le persone che sono diventate cittadine del nostro territorio creiamo un momento simbolico la consegna di un piccolo dono la costituzione musica festa momento conviviale e tutta la comunità accoglie i nuovi cittadini italiani è una cosa che facciamo insieme agli enti pubblici ai comuni alle realtà iniziative per la comunità di ogni genere quindi da teatro conferenze qualsiasi cosa rete tra associazioni qui era un intervento che abbiamo fatto nelle scuole vedete c'è già Bascego abbiamo un'associazione abbiamo un'associazione la bottega dell'arte che si occupava di promozione culturale ecco lì noi siamo entrati abbiamo dato dei suggerimenti li abbiamo accompagnati li abbiamo condotti è necessario procedere così nel 2015 diventiamo territorio di accoglienza la nostra associazione se ne occuperà per due anni 2015 2016 poi il testimone passa a croce rossa e noi rimaniamo per la parte di relazione col territorio cosa significa accogliere siamo arrivati ad un massimo di 23 persone accolte dei richiedenti protezione internazionale in una comunità così piccola significa che non si può prescindere dalla comunità accogliente non possiamo prescindere dai residenti non possiamo prescindere dai loro dubbi dalle loro domande dalle loro paure dobbiamo garantire a queste persone un senso di familiarità delle possibilità lavorative occupazionali dobbiamo dar loro quell'umanità ed ascoltare quelle che sono le loro storie una comunità così piccola fatica perché voglio dire tutto rose e fiori quindi voglio dire pregiudizi la chiusura è anche chiusura ok ma un lavoro forte che era stato fatto alle spalle ha reso questi anni un'esperienza secondo me nel complesso positiva non solo secondo me qui vedete alcuni esempi hanno fatto laboratori nelle scuole hanno abbiamo fatto laboratori di manualità hanno partecipato a delle feste vi ho portato due esempi delle cose che noi abbiamo fatto per l'accoglienza la prima è questa fac profughi a primiero consapevoli dell'uso mal fatto della parola profugo ma noi non interessava in quel momento dare una lezione di italiano ma avevamo bisogno di parlare alle persone residenti che continuavano a farci sempre le stesse domande noi ogni mese in collaborazione anche poi con Croce Rossa pubblicavamo delle domande semplici cosa fanno tutto il giorno perché non fa un volontariato ma perché questo ma perché quella con delle risposte generali e poi a lato una parte dedicata all'esperienza di tirocinio l'esperienza di volontariato c'era un accesso erano consultabili online sul sito della comunità di valle sul sito dei comuni c'era un accesso per informazioni su questo tema enorme e la popolazione si è sentita rassicurata si è sentita non le veniva nascosto nulla ok l'altra esperienza scusate è questa parliamo imparato di letteratura di arte noi che avevamo coinvolto degli scrittori e degli illustratori locali che avevano parlato con le ragazze all'inizio ne avevamo solo ragazze nigeriane non è un target facilissimo in una comunità come la nostra ve lo dico e però ne abbiamo parlato hanno rielaborato i loro racconti le loro narrazioni le loro storie i loro vissuti le loro criticità in dei racconti questo di Caterina De Marchi Caterina De Marchi all'epoca aveva 18 anni quindi le ha ascoltate ha scritto un racconto bellissimo ne sono usciti questi due poster che poi abbiamo distribuito nelle scuole raccontando nelle scuole cos'era l'accoglienza e cos'erano le migrazioni di questo genere da qui nasce tutto quello che viene che c'è stato lì e che è venuto dopo questo è un esempio a me fa sorridere perché è stato c'è stato un atto vandalico non so se vedete il Trentino Music Festival è una delle cose turistiche più di a un certo punto hanno tagliato la testa del musicista era un musicista di colore la popolazione ha avuto un momento di disorientamento iniziano a chiamare dicendo ma è un atto razzista ma di cosa si sta parlando ma forse dobbiamo fare qualcosa come ci muoviamo la risposta che abbiamo deciso di dare nel giro di due giorni è stata quella di portare per un appello di venire di fronte a questo cartellone e testimoniare che fosse un atto razzista o non lo fosse non importa ne cogliamo l'occasione e ribadiamo che Primiero è un territorio che accoglie quindi da una Primiero che vuole essere unita in una società interculturale che cresce nel confronto e non lo teme ne abbiamo fatto delle cartoline le abbiamo spedite in giro le abbiamo pubblicate ovunque e è un esempio oggi dove siamo oggi? siamo quello che abbiamo costruito in questi anni continuiamo con delle proposte culturali continuiamo con la festa della cittadinanza vedete qui c'è un sindaco che consegna un dono continuiamo a collaborare dentro e fuori i nostri confini a portare a collaborare con eventi più grandi il flash mob che vedete è un flash mob che era stato fatto contro la violenza sulle donne all'interno del festival delle pari opportunità quindi non è solo una collaborazione che parla sempre esclusivamente di migrazione ma è un rimanere all'interno della società perché le migrazioni non sono una realtà a parte ma sono integrate nella nostra società e interagiscono con essa qua abbiamo l'esempio di questa settimana dell'accoglienza che il cui tema era tessere comunità abbiamo costruito pensando all'emergenza freddo sappiamo che arriverà delle coperte insieme a tantissimi volontari che doneremo adesso a metà novembre una grande tela di comunità che ha girato tutti i comuni la stiamo costruendo adesso si muove all'interno di comunità nelle comunità qui e nella casa di riposo principale di Primiero questo per dire che stiamo continuando e cercando di portare avanti sempre attraverso il dialogo con i cittadini la valorizzazione del vissuto e delle persone che abbiamo intorno quello che abbiamo costruito ci tengo solo a dire questo abbiamo parlato di accoglienza diffusa nel 2019 nel momento in cui è stato stati incoraggiati ad entrare verso Trento la comunità si è espressa con una lettera formale alla loro amministrazione provinciale chiedendo che l'accoglienza diffusa Primiero non fosse interrotta di modo che chi era lì chi aveva inserito i bambini all'asilo chi aveva trovato lavoro potesse rimanere all'interno del progetto nel nostro territorio ignorata però ne l'abbiamo fatto questo vuol dire che nel momento in cui è scattata l'emergenza per l'Ucraina siamo di nuovo riusciti a rimettere in campo non solo risorse verso l'esterno ma anche l'accoglienza di una trentina di persone donne e bambini che si sono appoggiati a noi chiudo raccontandovi due cose la prima è questa questo è un progetto San Cristoforo e le rotte migratorie per farvi capire come in una realtà come Primiero ogni appiglio è quello giusto per poter ragionare su temi che ci stanno a cuore una persona mi chiama un giorno e dice ho letto un libro di Rumiz in cui Rumiz parla di San Cristoforo e lo accosta ai migranti San Cristoforo il traghettatore e lo accosta ai migranti che attraversano il Mediterraneo è una sciocchezza io ci penso iniziamo a pensarci da lì è nato un progetto di un anno e mezzo che abbiamo portato avanti insieme a le scuole le insegnanti di religione artisti locali musicisti la chiesa gli enti pubblici siamo riusciti parlando di San Cristoforo il traghettatore siamo partiti da lì a portare linea d'ombra all'interno delle scuole superiori di Primiero a raccontare della rotta balcanica sono andata personalmente nelle scuole primarie e secondarie di primo grado a raccontare cosa significa un viaggio sicuro cosa significa una rotta sicura cosa significa avere un passaporto di un certo genere abbiamo fatto una grande mostra e la realizzazione di un enorme San Cristoforo mostra che è stata visitata per dire anche dal cardinale Parolin questo è San Cristoforo che è ritornato sulla chiesa di Siror dopo che era scomparso ed era stato insomma si era slavato nel tempo questo San Cristoforo non si vede ma è un collage di foto prese da internazionale di migranti sulla rotta mediterranea fatto da un artista locale in collaborazione con gli studenti delle scuole questo per dire era una collaborazione particolare era ardito ragionare su questo ci abbiamo lavorato un anno e mezzo il contributo di tutti è stato parimenti importante e siamo arrivati a coinvolgere una cittadinanza questa è veramente l'ultima Primiero per la pace dove stiamo andando avanti ora la nostra associazione tutta la rete che si è creata in questo momento sta credendo fortemente in questo nuovo movimento che si chiama Primiero per la pace un movimento di persone di associazioni anche di qualche ente abbiamo organizzato una marcia per la pace a Primiero 9500 abitanti il 18 maggio c'erano 350 persone che sfilavano e ballavano sono tante per noi ve lo dico sinceramente stiamo portando avanti conferenze informazioni in questo grazie anche alla preziosissima collaborazione del forum Trentino per la pace e i diritti umani che davvero ci sta dando spalla fondamentale e ossigeno su tante iniziative ecco io credo che questo sia un altro di quei passaggi verso il futuro vi ringrazio per l'attenzione vi racconto solo questo piccolo disegno noi collaboriamo con tutte le scuole a un certo punto abbiamo cercato di entrare con degli albi illustrati nelle scuole dell'infanzia e parlando di accoglienza e poi abbiamo chiesto ai bambini di realizzare una cartolina per distribuire durante una festa che si chiama il sabato del mondo e questo bambino ha sintetizzato per essere accoglienti bisogna cambiare testa grazie a tutti e buona serata potremmo esordire dicendo piccolo e bello è bellissimo anzi però davvero grazie a Chiara Gober perché è riuscita credo a rassenenarci e a darci quel tocco di speranza che consente di acquistare nuove energie nel senso che il panorama che abbiamo di fronte come ci diceva anche Stefano è un panorama fosco ma ci sono possibilità ci sono strumenti ci sono realtà in cui quella famosa logica della città infernale è già sconfitta quindi io credo che tuo intervento sia stato assolutamente prezioso e grazie a chi ha individuato nella vostra esperienza la voce che potesse chiudere questo giro di tavolo quindi grazie davvero e sono stati tutti molto bravi abbiamo direi un quarto d'ora per voi quindi domande dubbi interrogativi o chiarimenti ulteriori siamo qui anzi sono qui soprattutto perciò non lasciate i tempi vuoti in mezzo perché così sfruttiamo davvero il quarto d'ora sì vi ringrazio per la presentazione annuale del dossier al quale si partecipa sempre volentieri per fare il punto su qual è il trend rispetto al tema delle migrazioni che non è appunto solo dal punto di vista di ricerca quantitativa ma appunto come abbiamo visto anche di quella quantitativa ci riporta un po' le storie dei migranti e sì migranti appunto che sono immobili ma credo che siamo immobili anche noi anzi siamo in una fase regressiva rispetto alla questione dei diritti delle persone migranti e anche sul nostro territorio non voglio dilungarmi troppo insomma di portare qua il pensiero generale rispetto alla questione però anche l'anno scorso hanno sollevato il tema di come il dossier nel dossier in qualche modo non si coglie la sproporazione parlo della della questione delle persone richiedenti protezione internazionale viene riportato quante ne sono accolte non si riesce mai a dare visibilità in un fenomeno che sta peggiorando che è quante entrano in quell'anno nel quale si riferisce il dossier in accoglienza rispetto a quelle che hanno fatto domanda perché noi abbiamo una risposta a un'interrogazione in consiglio provinciale che ci dice più di 1800 richieste ne sono entrate nel 2023 qualcosa di più di 300 quindi c'è una sproporzione enorme e vuol dire appunto come diceva prima Stefano Greif persone sul territorio che non si vedono accolte quando avrebbero diritto ad essere accolte siamo stati alla Fersina qualche giorno fa e li vediamo insomma i motivi delle abbiamo potuto parlare con queste persone i motivi delle migrazioni anche per migranti appunto migranti economici perché bisogna sempre fare questa distinzione che è assurda sono quelle di migliorare le proprie condizioni di vita e se lasciamo le persone per strada il nuovo fenomeno che stiamo generando con questa non accoglienza è quella di fratturare persone già fratturate quindi stiamo facendo dei danni enormi alla vita delle persone e chiudo dicendo solo una cosa che ho più un suggerimento che altro mi permetto perché ogni volta che parliamo di migranti noi non faremo mai un convegno sulle pari opportunità con solo uomini abbiamo visto parlare di aborto in tv da vespera non solo uomini ma succede anche questo non si dovrebbe fare io mi domando sempre noi continuiamo a parlare di di migranti e non diamo mai la parola alle persone migranti ma non è qua è ovunque specie quando lo facciamo a livello più istituzionale a volte quando lo facciamo con le associazioni diamo più visibilità e parola ma quelle storie di cui ci parlava Paolo Boccagni sarebbe interessante che ce le portassero anche in un convegno di questo tipo le voci delle persone che siano persone che le hanno vissute che siano persone con background migratorio che hanno studiato il fenomeno anche cioè non sempre non essere persone per forza italiane doc a raccontarci le storie dei migranti e quindi secondo me è un'attenzione che potremmo cominciare a sviluppare e avere quello di coinvolgere direttamente le persone migranti e non dare parola alle persone migranti e non parlare sempre per loro grazie grazie approfitto grazie per questa sottolineatura che hai fatto Paolo allora posso così fare un piccolo mea culpa e no no e però nel contempo dare una buona notizia il 7 così intanto faccio uno spot tipo pubblicità progresso il 7 e l'8 novembre qui sempre penso proprio in questa sala se non ah no no siamo a sociologia chiedo scusa di là dall'altra parte della strada ma ormai avete capito che grazie al master diritto e politiche delle migrazioni siamo diventati un'unica famiglia avremo un convegno il popolo del futuro sul tema della cittadinanza nel quale abbiamo pensando proprio a questa cosa ma come parliamo di cittadini nuovi cittadini generazioni di abbiamo diversi colleghi che partecipano al convegno da Marva Mahmood del comune di Reggio Emilia abbiamo Abdullai Embodi che i miei studenti del corso di diritto delle migrazioni hanno conosciuto che è un avvocato del foro di Milano di origine senegalese è stato il primo avvocato di colore iscritto all'albo e Simo Ahmed Kabur che è consigliere comunale ma anche insegnante attivista è tra i promotori del referendum sulla cittadinanza che si sta ecco abbiamo cercato in quel caso proprio pensando che è così che abbiamo bisogno di avere le voci perché se no siamo noi sempre che parliamo degli altri abbiamo fatto il nostro piccolo timido tentativo di ascoltarci con attenzione ecco solo questo volevo dire c'erano altre domande interventi grazie io lavoro in una scuola di istruzione e formazione professionale abbiamo 36 nazionalità diverse a scuola ogni tanto mi chiedo chi è straniero rispetto a chi perché poi vedi che in realtà non è un problema avere 36 nazionalità diverse stavamo ragionando a scuola anche di questi tempi sarà l'economia che ci porterà a rispettare i diritti cioè paradossalmente sarà il fabbisogno di lavoratori che farà mettere da parte tutte le considerazioni di carattere ideologico o giuridico da appassionato di diritto internazionale un po' mi fa tristezza questo però il problema si risolverà fra virgolette o diventerà meno drammatico per una considerazione di carattere economico o forse questa è la speranza in qualche modo che qui stia la chiave per cambiare la testa come giustamente si diceva prima grazie se posso butto un input poi magari l'economia può stimolare resta sempre un problema e cito una frase ormai tritta ritritta famosa pensavamo arrivassero braccia ci siamo accorti che sono arrivati i uomini l'economia può stimolare può creare condizioni per porci la domanda sul come possiamo valorizzare resta sempre comunque il punto principale che si parla di persone e il tema della difesa dei diritti delle persone è imprescindibile è imprescindibile così come il tema sicuramente l'economia aiuterà e potrà in futuro offrire delle opportunità però l'economia al contempo soprattutto l'economia europea in questo momento dall'altra parte sta creando continuamente le condizioni per alimentare il flusso delle persone perché il problema vero lo diceva all'inizio la professoressa Borgonova mi pare o anche la esatto parlano di numeri è il grande squilibrio tra il nord e il sud il fatto che il nord sta prosperando ancora economicamente sfruttando il sud del mondo sfruttando le popolazioni più povere e questo continua inesorabilmente a creare flussi di profughi e di persone lo stesso effetto drammatico di cambiamenti climatici deriva dal fatto che le nostre economie internazionali scrivono gli accordi e poi cominciano pian pianino adevolirle e potenziarle di ragione di interessi economici allora o partiamo da quest'idea l'economia certo è fondamentale rispetto a questo ma se riesci a fare un ragionamento a 360 gradi se riesci a pensare che il rapporto con l'Africa e col sud non può essere solo quello di prendo e sfrutto allora un carissimo amico Vincenzo Passerini presentando il suo libro in un paese della Val di Nona ha detto e mi sono scritto questa frase l'articolo 1 del piano Mattei dovrebbe essere il settimo comandamento non rubare velocemente grazie per quest'ultima seduzione l'economia aiuta può aiutare da un sacco di punti di vista quando è in crescita tipicamente l'imprenditore medio è un pochino più aperto del decisore politico medio soprattutto per gli interessi strumentali e pragmatici che ha per cui è di per sé un volano di maggiore attrattività inclusione cioè per tante persone immigrate il primo strumento di autonomia integrazione ricerca di una dignità di una rispettabilità per sé sta nel lavoro che si trova e che si fa e che si cerca di fare meglio che si può dopodiché questo è vero è importante ma non non è tutto non solo ovviamente perché cercavamo braccia sono arrivate persone per cui tutto quello che ha a che fare con l'economia come per chiunque di noi è per fortuna solo una parte della nostra vita e non tutto ma anche perché a volte alcune volte soprattutto con persone con storie di violenza e di migrazione forzata alle spalle può capitare di trovarsi davanti a persone con patrimoni di salute fisica e psicologica fortemente compromessa e allora che si fa li si caccia via perché economicamente non avranno mai il valore che si vorrebbe che cioè è un passaggio importante per il riconoscimento ma è importante anche non spingerlo troppo sul piano dei diritti perché altrimenti chiunque per i motivi per le sfortune della vita non rientra in questa logica è automaticamente ai margini come Gris abbiamo una convenzione con l'azienda sanitaria e gestiamo e collaboriamo con l'azienda all'assistenza sanitaria gli identi protezione internazionale persone con STP e persone anche diciamo sulla strada ecco e tramite un ambulatorio al centro servizi sanitari e un punto d'ascolto presso il punto d'incontro solo focalizzo alcune cose sulla carta e in via teorica la legislazione italiana è molto inclusiva anche dal punto di vista sanitario e difende la salute delle persone di tutte le persone di tutti gli individui poi dalla teoria alla pratica è difficile è difficile fruire di questo diritto per vari ostacoli amministrativi per la conoscenza noi troviamo una grande difficoltà anche di orientamento delle persone sono persone disorientate che non sanno come muoversi e che non trovano gli aiuti necessari per poter fruire del diritto di cui avrebbero teoricamente bisogno c'è un problema culturale all'interno del personale sanitario dei colleghi insomma alle volte troviamo delle dimissioni dal pronto soccorso o anche dall'ospedale con esaltato la barriera linguistica mi chiedo di chi è la barriera ecco la mediazione linguistico culturale nelle prime fasi è importante è utile i medici di medicina generale non hanno diritto attualmente ad avere la mediazione linguistico culturale che secondo me sarebbe importante alle volte ci sono delle difficoltà anche proprio formali nel senso che per esempio il sistema informatico aziendale fa fatica ad emettere un codice STP per chi in precedenza è stato registrato con un codice fiscale cioè ci sono degli gap degli ostacoli oppure per esempio le istituzioni private se tu chiedi un esame non accettano le persone con STP gli enti i centri privati diciamo ormai tutte le visite le cose specialistiche sono sostanzialmente fornite dai privati chi ha un codice STP poi fatica anche a leggere il referto cioè non ha proprio strumenti per poter leggere i referti degli esami che ha fatto piccole cose insomma però sono segnali di una difficoltà ecco un disorientamento rispetto a come e che percorsi seguire a volte anche come dire la mancanza di un'attenzione alla propria salute insomma no anche di diciamo che se uno dorme per strada o o non ha o deve preoccuparsi di mangiare insomma alle volte alcuni problemi per cui ci sono anche situazioni in cui la trascuratezza la difficoltà fanno sì che delle situazioni si cronicizzano o peggiorano e ci troviamo a volte delle persone veramente malate c'è anche l'altro fenomeno del migrante esausto come viene chiamato questa è un'altra categoria di persone sono persone che magari hanno vissuto anni e anni in Trentino o in Italia e alla fine non hanno più uno sbocco lavorativo si trovano per strada alle volte hanno delle patologie croniche cominciamo a vedere anche questo tipo di fenomeno niente solo per insomma non volevo deprimere solo per dare un tassello di così di quello che è un po' l'esperienza insomma e sì bisogna fare di più bisogna fare meglio e bisogna aumentare la cultura bisogna far formazione anche su questi temi del personale sanitario e bisogna anche far formazione sulla normativa anche non solo culturale dell'interculturalità e superare i gap e gli ostacoli sì buonasera solo un'osservazione che mi pare importante che almeno è una cosa su cui una riflessione da tempo lo scorso anno 100.000 giovani italiani giovani e meno giovani in realtà hanno lasciato questo paese cercando un loro futuro altrove solo 37.000 sono rientrati peraltro hanno preso una valigia una borsa uno zaino hanno preso un aereo un treno un'automobile a piedi a cavallo in bicicletta in qualunque modo sono andati in un altro paese e hanno valutato e cercato di capire se li avevano una speranza noi qui non parliamo di questa cosa allora il problema è che noi continuiamo a parlare di emigrazione scusate io non uso il termine emigranti uso il termine emigranti e immigrati continuiamo a parlare di emigrazione parlando in realtà di profughi cioè tecnicamente di persone che vero o meno comunque devono arrivare qui dichiarandosi profughi e cercando una protezione internazionale perché altrimenti qui un futuro non se lo possono costruire c'è una menzogna di fondo che continuiamo a inseguire anche nelle nostre statistiche che non ci porterà mai a risolvere il problema perché noi continuiamo a trattare questo problema come un'emergenza permanente affidata alla pubblica sicurezza e non a ministeri e a dipartimenti di questo stato di altra natura come dovrebbero essere per un fenomeno emigratorio e continuiamo in realtà a negare un diritto fondamentale che è quello alla ricerca di un futuro piegandolo problema italiano e problema europeo a una menzogna appunto a un racconto che abbiamo creato per cui qui accogliamo solo e scegliendo quali sono i paesi sicuri e quelli insicuri alcuni individui che arrivano secondo noi da una situazione di crisi quindi forse dovremmo cominciare anche a usare le parole per quello che sono cioè smetterla in questa fase della nostra storia di paese e di unione europea per le norme che abbiamo di parlare di fenomeni di emigrazione e parlare invece di fenomeni di emergenza di accoglienza loro sì di persone che arrivano da situazioni di crisi internazionale e lì allora però cominciare a fare un ragionamento ancora diverso perché dovremmo capire perché non accogliamo gli afghani che fuggono dall'arrivo dei talebani accogliamo gli ucraini che scappano da una guerra indecente come quella dell'Ucraina cioè facciamo una scelta politica anche lì allora il ritorno anzi dobbiamo inseguire le parole corrette perché se non inseguiamo le parole corrette non riusciremo mai a fare quello che ci chiede di fare quel bambino non cambieremo mai testa perché accetteremo sempre il gioco degli altri e questo è fondamentalmente sbagliato se posso dico una cosa su questo a proposito di menzogne allora se qualcuno di voi ricorda in passato ricorda gli anni tra l'86 e il 90 86 la prima legge italiana in materia di extracomunitari si chiamavano così allora giustamente perché erano cittadini non comunitari allora l'ingresso dei cittadini extracomunitari era un ingresso per lavoro tant'è che la responsabilità era affidata al ministero del lavoro e della previdenza sociale il ministero dell'interno non pervenuto è scattato poi un meccanismo che non è solo italiano è anche europeo secondo il quale con le crisi economiche della diciamo della metà degli anni 90 ma già prima il vero problema era quello di limitare gli ingressi per ricerca lavoro perché gli ingressi per lavoro l'Italia se li ha inventati col sistema delle quote io ogni anno dopo aver fatto un'analisi con le regioni cosa che non è stata fatta in realtà faccio una programmazione triennale e ogni anno faccio un decreto flussi in cui dico quest'anno entrano perché mi servono tot meccanici tot camerieri tot questa cosa non ha mai funzionato per mille e una ragione che ovviamente non esprimiamo qui ma cosa è accaduto è accaduto che progressivamente nel tempo si sono ristrette fino a sparire le modalità regolari di ingresso in un paese come l'Italia ma nei paesi europei in genere poi ogni stato ha la sua disciplina per ricerca lavoro perché questa è la logica poi i nostri expat italiani li chiamiamo expat parliamo di immobilità di cervelli in fuga un cervello camerunense o senegalese non è mai un cervello in fuga è appunto o un migrante economico detto con disprezzo benché la migrazione italiana all'estero fosse una emigrazione economica tranne il ventennio fascista in cui abbiamo avuto finalmente qualche vero rifugiato l'emigrazione economica no certo ma non ci serve non ci servirebbe dirlo perché avremmo canali per chi cerca lavoro per chi vuole fare un'esperienza di studio per chi ha solo la curiosità di fare il grand tour come facevano i giovani inglesi ai tempi molto passati e invece mantenere i canali protetti per i richiedenti asilo per i migranti forzati c'è poi quel grosso enigma dei migranti per ragioni ambientali provocate dal cambiamento climatico o da altro che è ancora un punto interrogativo e spesso finisce per sovrapporsi con il migrante forzato in fuga da un conflitto per esempio o da violenza generalizzata determinata dal fatto che per avere l'acqua tu devi spostarti e trovi allora il dramma è questo allora tutte le persone che vengono in Europa siccome non c'è o che vengono l'Italia è proprio un passaggio non è che si fermino appunto se guardate i dati l'Italia non è mica la prima in Europa per numero di richiedenti asilo o di titolari di protezione accolti siamo molto in fondo noi abbiamo lo 0,8 0,9% sulla popolazione italiana però il tema è quello che non riesci ad entrare se non presentando domanda di protezione internazionale è chiaro che se non se non costruisci un altro canale tutti sono schiacciati lì ma santo lei parlava dell'economia ma io mi chiedo ma se noi fossimo egoisticamente egoisticamente un pochino furbetti diremmo ma scusa sta gente che ha 5.000 dollari da dare allo scaffista al trafficante perché quei 5.000 dollari non li usiamo per un biglietto aereo una residenza per tot tempo un visto per ricerca lavoro un permesso di soggiorno per ricerca lavoro hai un anno di tempo per guardarti in giro ti faccio anche spenderemo molto meno molto meno io spero che ci sia qualche economista che sta facendo il conto di quanto costa l'Italia attrezzare la famosa stamattina l'hanno chiamata Guantanamo italiana attrezzare la famosa Guantanamo italiana pagare polizia avvocati giudici le strutture dei cipiere tutto questo ambaradan gli avvocati resteranno senza lavoro naturalmente avvocata frizzi ma penso che sarete felici lo stesso fidarete ad altro tutto l'ambaradan che è costruito attorno a questo sciagurato e inefficace e auto viene da dire quando uno si fa del male da solo ecco questo è il sistema però la domanda è ma se noi che siamo persone di normale buonsenso pensiamo che senza troppo preoccuparci delle persone oggetto di questa discussione proprio solo da un punto di vista egoistico pensiamo che ci sarebbero strade più efficaci ma siamo sicuri che nei governi che si sono succeduti nessuno l'abbia pensato allora qual è la vera finalità c'è un passaggio molto interessante poi basta mi taccio c'è un passaggio molto interessante nella presentazione di stamani in cui si parla del capro espiatorio in cui risulta evidente che quando ci sono problemi nella storia della città di Caino quando ci sono problemi interni chi ha il potere cerca all'esterno qualcosa su cui spostare l'attenzione del volgo non lo chiamo neanche popolo a questo punto in modo da distrarre l'arma di distrazione di massa Goffredo Buccini l'ha chiamato così qualche giorno fa sul Corriere quello l'ho letto qualche giorno fa sul Corriere gli immigrati o le persone in migrazione rappresentano un'arma di distrazione di massa non sono nemmeno in cima alle preoccupazioni dei cittadini italiani ma sono un ottimo capro espiatorio con rischio che andremo a fondo tutti dall'inverno demografico alla mancanza di lavoratori in determinati settori probabilmente qui io tendo a pensare che se gli imprenditori Confindustria non solo in Trentino ma a livello nazionale iniziassero a fare la voce grossa però ricordate l'accordo Italia-Tunisia quell'accordo a un certo punto c'era era previsto il rilascio di 12.000 permessi di soggiorno non stagionali in tre anni quindi 4.000 all'anno per cittadini tunisini è stata anche creata un'agenzia di sviluppo lavoro Italia che deve seguire questo percorso non è ancora arrivato uno e non si capisce neanche come faranno ad arrivare gli faranno formazione in Tunisia arrivano qui con i barconi e poi li regolarizza siamo non so dilettanti allo sbaraglio a voler essere gentili ecco questo è il mio pensiero allora mi dispiace ho avuto l'ultima parola come nelle vignette di Lupo Alberto vi ringrazio ringrazio prima di tutto i nostri relatori le nostre relatrici ringrazio tutti voi che avete ascoltato e partecipato il mandato è che ciascuno si faccia portatore nel mondo che frequenta in cui vive di qualche buona notizia ci spostiamo se no tutti in primiero